Chi gioca nella... Chi gioca nella... Solo che è una partita di beneficenza Ah, tipo partita del cuore Del calcio cuore Sorelle, si pulite, siete ancora in tempo? Tu non preoccupa, noi abbiamo sorella che con palone fa miracoli Miracoli Tutto mia? Questa è il tuo oroscopo, l'ultime notizie ho tutto sulla tua squadra del cuore Chiama il 4444 Canzone Continua, basta la tua voce Pari, 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 pari